Invece di Rotomox siamo qui, live dalla Ducati World Premier con la seconda novità di Borgo Panigale. Sto parlando della nuova Ducati Hypernotard 950. Qui vedete la versione S, c'è anche la versione standard ovviamente. Come potete vedere il design è tutto nuovo, è cambiata la forma del frontale, è cambiato anche di po' qui la sagomatura del serbatoio che deve essere più snello per facilitare appunto il controllo della moto e anche l'appoggio della gamba a terra, modificata anche la forma della cosa e degli scarichi che adesso ci sono pronti. Ovviamente luci full LED, Pirelli supercorsa le gomme, Hollins le sospensioni su questa versione SP, è la più sportiva e ovviamente la novità principale è il motore 950 che cresce di 3 cavalli nella potenza massima e la moto in generale diminuisce di peso. E voi che cosa ne pensate della nuova Hypermotard 950 SP? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, se vi è piaciuto il video lasciateci un like, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cibirci su www.motorbox.com Al prossimo video, ciao! Ciao!